Ho cambiato tante carte e conti correnti, ma il migliore in assoluto, quello che non riesco a cambiare, è sempre lui. E ora vi parlerò di Revolut. Eccolo qui. Avete mai provato Revolut? Bene, in realtà le carte sono due. Questa è la carta personalizzata del mio conto premium, eccolo qui, che pago 9,90€ al mese, posso disdire quanto voglio, quando voglio. E la cosa bella di Revolut, che ha un piano gratuito, immaginate di avere la postpay, che però è gratis, la carta, l'applicazione fighissima, rapida, subito le movimentazioni sono registrate, tantissime funzioni, tra cui anche l'acquisto di bitcoin, investimenti, tra cui per esempio azioni, meta, oro, qualsiasi cosa potete farlo col conto Revolut. Quindi ha tantissime possibilità. Il conto gratuito ci offre le funzioni di base. Se poi decidiamo di comprare qualche pacchetto più avanzato, io per esempio ho il pacchetto premium, che costa 9,99€, mi dà non solo il conto con cambio valuta limitato, come tutti gli altri conti. Posso ritirare fino a 400€ in tutti gli ATM del mondo cambiando valuta, questo l'ho fatto in Bolivia, l'ho fatto in Argentina, l'ho fatto in Peru, cambiavo, andavo all'ATM e ritiravo come se avessi un conto corrente locale. Ma la cosa più importante è l'assicurazione di viaggio, un'assicurazione che ci copre sui bagagli che arrivano tardi, voli cancellati, assicurazione sanitaria fino a 10 milioni di euro, insomma assicurazioni che in realtà se vogliamo comprare esternamente avrebbero un costo molto molto più alto, qui sono compresi nel piano, quindi per viaggiare è l'ideale. Io ora che sono a Napoli, sono rientrato, magari lo staccherò per un periodo il piano premium, ma ogni volta che mi sposto fuori lo attivo e poi oltretutto col piano premium di 9,99€ abbiamo anche delle applicazioni con abbonamento illimitato e vi dico anche quali. Abbiamo Deliveroo, l'applicazione che ci porta il cibo fino a casa, abbiamo NordVPN che è un'applicazione che da sola vale, la VPN vale 8-9€ al mese e invece qui è compreso, ci consente di poterci connettere ovunque siamo nel mondo, quindi se siamo in Spagna ma siamo connessi in Italia con la VPN vedremo Netflix italiano. C'è Freelytics, un'applicazione che ci consente di allenarci, ci fa la scheda, ci guida, Sleep Cycle per dormire, abbiamo Tinder, Tinder Plus che ci dà il passport e quindi possiamo fare match in tutto il mondo, poi c'è PixArt che è un'applicazione che ci aiuta a fare foto editing e ha anche funzioni di intelligenza artificiale illimitata grazie all'abbonamento. E poi c'è Headspace, applicazione per meditare, per dormire, insomma negli ultimi anni ha avuto un grande successo. Insomma Revolut che ormai ha pubblicità un po' dovunque, cresce sempre di più, vi manda anche la carta personalizzata, io me la sono fatta così, se avete domande fatemene pure, vi rispondo, vi lascio anche il link per aprire il conto con il codice amico. Chi già ha Revolut, cosa ne pensate?